Finisce, finisce 2-1 per la Roma, vince la Roma contro il Parma questa partita, ma no, ragazzi, nel senso non è possibile. Io, Villar, Villar, ma Villar, ma che cosa hai fatto? Ma che cosa hai fatto, Villar? C'è stato registrato? Sì? Ah, ok, no, perché non si sa mai. Cioè, allora, due gol nel finale, uno clamoroso, palla in mezzo, rimpallo solo davanti al portiere, proprio quasi nella rietta piccola, leggermente defilato, non pressato, tira una mozzarella che para con la mano. Ma il secondo gol, ragazzi, recupero, non me. Cioè, andatevi a rivedere l'immagine, cioè, viene messo in mezzo, potrebbe tirare con la porta che è qui e lui è qua, ma non riesco a farlo vedere bene, non tira, fa pirouette, insomma, rivedetevelo, però no, 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 no. La Roma vinci rimonta, era partita molto bene la Roma, poi prende subito questo maledetto rigore che non ci voleva in quel momento perché, cioè, dici, ma non è possibile, cioè, stai giocando bene, bam, e vai sotto, meriti di pareggiare, prendi un palo con Pellegrini, abbiamo vinto un assegnato Pellegrini e ha preso il palo, quindi non ci ho preso quello, poi che cosa succede? Succede che trovi il pareggio, è un'occasione camerosa con i bagni, e se bla bla bla. Nel secondo tempo, gran gol di Veretout, che va a fare, appunto, il gol del 2-1 da fuori, si rifà del gol annullato contro la Sampdoria nella prima partita. A quel punto c'è un po' di stacca, la Roma gestisce bene, poi c'è un episodio par che, io lo dico, secondo me, era rigore per il Parma, perché due sono le possibilità, perché l'ha rivisto mille volte, o ha preso spalla e adesso non ho visto, però ho visto i replay, a me sinceramente sembrava a braccio, e se la prende col braccio non c'è attenuante che tenga, perché ormai la regola è molto chiara, quindi l'unica cosa che vedeva c'era in effetti un replay che non si capiva se la prendeva sulla spalla, però onestamente per me era braccio, quindi nel caso sarebbe un errore molto grave. Quindi nel caso ci siamo salvati lì, poi mi rivedrò meglio i replay, ma sinceramente non è che mi importi molto, ma non peraltro perché a Roma sta veramente facendo un campionato mediocre, quindi non è quello. E poi arrivano le sostituzioni e questi due gol mangiati da VR, cioè tu segni il primo all'ottantaquattresimo, ti risparmi gli ultimi sei minuti, più sei minuti di recupero, dodici, con la lingua di fuori e correre appresso all'avversario a prendere magari munizioni inutili, ti prendi gialli che poi ti fanno squalificare come quello di Bagnez, che non è diffidato, però voglio dire che capite il senso. E poi Diego era con la lingua di fuori, segnava il 3-1, non gli succedeva nulla, però c'è stato pure un altro occasione, non mi ricordo se era Carlos Perez, sì, Carlos Perez è che mi sbaglia il passaggio, cioè questi spagnoli sempre col tempo in ritardo, perché lì in Spagna si gioca più lenti, però non è possibile, non è possibile, e mi sbaglia lì il passaggio a Diego centrale, poi però ripeto all'ultimo minuto, quando mancava un minuto e mezzo, VR, quei due gol, anche per un discorso di differenza di reti, che in realtà ormai per la Roma contano solo in relazione al Napoli, anche se è giusto una questione matematica col Napoli, quinto o sesto posto, perché non cambia nulla, con loro cambia col Milan, ma lì il Milan gli sconti diretti e non ti serve la differenza di reti, però vincevi 3-1. Boh, veramente, veramente, guarda, ero felice della vittoria, per carità, però questi due gol di VR, veramente assurdi, assurdi. Fatte una doccia, pensaci su VR, perché non è possibile. Ovunque la Roma vince, non è che ci facciamo molto, non è che conti molto, però niente, vabbè, niente, ciao ragazzi.